I televisori LG della serie UH850V sono Smart TV 3D dotati di pannello LED con risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia HDR Pro. Questi TV presentano un metallic design senza cornice, con schermo ultra sottile che impreziosisce il tuo salotto e restituisce un'esperienza di visione unica riproducendo immagini senza confini. Le diverse connessioni facilmente raggiungibili sulla parte posteriore dello schermo permettono di collegare questo TV facilmente con praticamente ogni tipo di elemento esterno. LG UH850V presenta la tecnologia IPS 4K Quantum Display che rende le immagini più reali, coinvolgenti e brillanti. A questo si aggiungono la tecnologia 3D, l'HDR Dolby Vision e il sound designed by Arman Kardon per regalare immagini profonde ed audio cristallino. LG UH850V è dotato della piattaforma WebOS, aggiornata alla versione 3.0, che introduce un'innovazione straordinaria nell'interfaccia utente, rendendo più veloce ed intuitivo l'utilizzo, sia durante l'installazione sia durante l'uso, per un intrattenimento senza limiti. Cliccando semplicemente sul tasto Home puoi selezionare contenuti e funzioni dalla home page, nella parte bassa dello schermo, con la possibilità di passare dalla programmazione in onda a quella da te selezionata. Inoltre Magic Mobile Connection permette di condividere i contenuti dello smartphone direttamente sul proprio TV e grazie al wifi integrato sarà possibile navigare su internet con facilità, sfogliare le notizie appena uscite e chattare con gli amici sui social network. LG si supera davvero e ci regala un dispositivo unico, un TV che racchiude il meglio della tecnologia ed adatto a chi pretende il massimo per l'intrattenimento.